Buonasera, benvenuti al Think Me! I Think Me sono degli incontri aperti con la redazione di Milano News sui temi più importanti per la nostra città. Siete stati invitati nel nostro co-working per aiutarci nella realizzazione del nostro prossimo articolo. Ogni Think Me parte da una specifica domanda su Milano e dalla richiesta di condividere con noi quello che sapete sul tema della serata. Per rispondere al meglio alla domanda abbiamo invitato alcuni esperti che ci aiuteranno nella comprensione del tema. I Think Me sono una riunione di redazione in cui i protagonisti siete voi, pubblico di Milano News, cittadini di questa città e nostri affezionati follower. Non abbiate paura! Alzate la mano e chiedete la parola! Non abbiate paura! 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 Non abbiate paura!